Giovedì 26 ottobre ci troviamo a Ravenna per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group. Editore, circa 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione dal titolo edificio impianto. Molte aziende hanno potuto raccontare le proprie soluzioni tecnologiche. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Sta andando molto bene e cerchiamo di far passare il concetto che noi oltre ad un sistema di impermeabilizzazione cerchiamo di introdurre all'interno del calcestruzzo anche un additivo che dà grande durabilità al calcestruzzo. Questo è un concetto che piace molto soprattutto in zone dove l'aggressione marina può essere particolarmente importante. I due concetti abbinati insieme sono un'arma che il progettista vuole saper utilizzare e saper dominare.